Ciao, sono Massimo Vismara, amministratore delegato dell'agenzia immobiliare Unica Casa. Ti comunico che questa sarà la mia ultima mail e siccome non mi hai ancora contattato, non voglio continuare a stressarti. Probabilmente non sono riuscito a convincerti. Grazie a questi video ho convinto e ho avuto l'opportunità di incontrare di persona molti venditori che hanno potuto constatare, e lo stanno facendo anche ora, che le mie non erano solo chiacchiere. Non tutto però è perduto e siccome difficilmente per carattere mi arrendo e potrebbe essere anche utile per la vendita di casa tua, ti voglio dare l'opportunità di aderire ancora alla nostra offerta imperdibile di cui ti avevo già parlato. Se scegli Unica Casa, non avrai nessuna provvigione variabile ma una quota fissa, equa e solo al risultato ottenuto. Avrai un servizio fotografico, la certificazione energetica, bonus visibilità sui portali immobiliari e una campagna marketing mirata. Voglio proporti una sfida. Ti vendiamo casa in 150 giorni oppure il servizio è gratis. Se non ti vendiamo casa entro i 150 giorni, continueremo comunque a collaborare per la vendita di casa tua, ma in questo caso non dovrai pagare nessuna provvigione. Questa super offerta però durerà solo per te ancora per 48 ore, dopodiché non ti disturberò più. Mi piacerebbe poterti dimostrare quanto io e il mio staff siamo preparati e affidabili e confermarti le nostre qualità di professionalità, competenza e trasparenza che piacciono tanto ai clienti che ci hanno scelto. Se sei dubbioso e hai bisogno di spiegazioni, possiamo anche sentirci telefonicamente o vederci di persona e sarò lieto di rispondere alle tue domande e rispondere ai tuoi dubbi. Adesso ti chiedo solo di contattarmi. Sai dove trovarmi?